L'Umbria ripiomba nell'incubo terremoto con diverse scosse, la più forte di 4.6 con epicentra umbertide. Nell'Appennino centrale ci sono diverse faglie, quella dell'Umbria non è la stessa del terremoto dell'Aquila del centro Italia, ma appartiene certamente alla stessa fascia deformativa in Appennino, anche se in condizioni diverse. Il professor Moretti, geologo dell'Ateneo, il professor Ferrine spiegano analogie e differenze. Siamo sempre in Appennino, quindi il contesto è questo. Vedi, questa è una mappa dei terremoti storici, l'Aquila è qua, vediamo che questi terremoti seguono una linea sul fronte dell'Appennino, qua c'è Gualdo Tardino e poi arriva fino al nord. Questo terremoto è un po' più dietro, dove non c'è l'evidenza della faglia, ma la faglia scivola, scivola in profondità e prende il nome di faglia Alto Tiberina. Questo è il fronte dell'Appennino, che fa una piega così, conosciamo quella del Gran Sasso, che va sopra, sopra l'Adriatico che scende. Dietro c'è una serie di faglie, di scaricamento, per esempio la faglia dell'Aquila, la faglia di Amatrice, quelle di Camerino e più in giù. Arriviamo sul Mona, arriviamo... Tutte queste faglie poi si vanno a inviluppare su una faglia maggiore che corre ad una certa profondità e poi si va a collegare qua, dove c'è il Tirreno, eccetera. Questa faglia qua sotto prende il nome di faglia Alto Tiberina. I terremoti dell'Aquila avvenuti in questo elemento, il terremoto di ieri è avvenuto su questi elementi collegati a questa faglia che non si vede bene in superficie perché è sepolta. Le caratteristiche di questa faglia è che accumula meno energia perché ha meno potenziale gravitativo, ha dei terremoti più rari nel tempo e di energia un po' minore di quelli dell'Appennino. Non è sicuramente la faglia che ha interessato l'Aquila. Ovviamente tutta la parte centrale dell'Italia centrale, tutta la parte appenninica è interessata da tutta una serie, da un'intensa fascia deformativa con tante, tante, tante faglie che chiaramente si mettono in movimento l'una accanto all'altra e danno questi eventi sismici. La zona di Umbertide è sotto osservazione perché siamo vicini a questa importante faglia che è appunto Alto Tiberina che ha delle dimensioni importanti e che quindi potrebbe dare fenomeni di una certa intensità. Diciamo che le scosse che si sono registrate, almeno per quanto possiamo vedere dai dati che sono stati pubblicati, sono delle scosse però che hanno di bassa profondità. Ovviamente quando una scossa è di bassa profondità si risente parecchio sulla popolazione perché lo scuotimento è più forte e quindi è sicuramente legata a questa faglia però non è la faglia tiberina. Attraverso un sistema informatico degli NGV, Reteotto vi mostra pure come è possibile vedere per tutti i terremoti, i dati storici e tutte le fonti che raccontano le descrizioni dell'epoca.